Sergio che è stato anticipato da Mechimi ma recupera, Sergio in area, il tiro e la palla in reso! Una carriera spesa sui campi di calcio di Serie A con le maglie tra le altre di Napoli, Lazio, Torino, Udinese e poi quella di allenatore che gli ha riservato spesso amarezze soprattutto perché i suoi sacrifici non sono seguite le soddisfazioni che avrebbe meritato. Ha provato anche come dirigente sportivo Raffaele Sergio ma oggi ha voluto ricominciare tutto da capo con una scuola calcio la sua scuola calcio a Cava dei Tirreni nata da poco e con la quale spera di poter tirare fuori qualche talento ma soprattutto tanti piccoli uomini. Abbiamo incontrato l'ex terzino sinistro che ha fatto le carte della stagione di alcune delle squadre che seguiamo da vicino a cominciare dal Napoli. Napoli ha fatto un grandissimo lavoro perché comunque sia non era semplice ripartire con una progettualità nuova ha aperto un ciclo nuovo, ha speso la metà di tutti perché poi la realtà dei fatti è una squadra che ha speso la metà di tutti ha valorizzato secondo me i calciatori importanti, ha trovato un grandissimo allenatore e poi non sempre la fortuna aiuta in qualche modo però secondo me bisogna guardare il lato positivo cioè dare continuità al calcio al Napoli perché poi di questi tempi dove se ne sentono di cotte e di crude l'importante è mantenere la Champions l'importante è valorizzare i giocatori e l'importante è non far sparire il calcio che è la cosa più importante. Raffaele Sergi è però legato certamente anche alla Nocerina dove ha allenato qualche anno fa e alla Cavese perché a Cava è nato e lì vive con la sua famiglia due compagini vicinissime alla promozione ecco il suo pensiero. La cosa importante è fare i complimenti perché poi vincere non è mai facile quindi un consiglio che posso dare è organizzare bene la società che visto i tempi che corrono che qui si sparisce all'improvviso è meglio dare, gettare le basi solide cercare di non promettere cose assurde ai tifosi cioè consolidare e formare bene la società perché poi il tifoso in sé per sé non è stupido quindi fare i complimenti perché ormai l'obiettivo è un passo e la cosa importante in questo momento è programmare bene e non promettere la luna perché poi io sono stato a Nocera e quando purtroppo si promette tanto dopo non è una piazza falsa si creano dei falsi presupposti e questo non va bene io credo che il tifoso deve essere guidato deve essere aiutato e soprattutto fargli capire che la programmazione è più importante della vittoria La Cavesio ce la farà? È lì, è lì se la può giocare secondo me ha tante cose favorevoli rispetto alle altre due contententi è lì io penso che chi meno perde la testa ha buone possibilità secondo me la vedo anche un po' fortunata